Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Oggi farò un tag diverso dal solito in cui mi è taggata la Ele nel canale Eleonora Bellons Grazie Ele per questo bellissimo tag Si intitola Shadowhunters Week Siccome a me piace un sacco la serie Shadowhunters e la Ele appunto lo sa mi è taggata in queste bellissime domande Sono 7 domande una domanda per ogni giorno della settimana quindi direi di iniziare subito Giorno 1 Personaggio preferito Ma sono domande da fare Ovviamente Alec Non ho niente da dire cioè non posso esprimermi Il tuo personaggio preferito maschile tra parentesi non può essere il tuo personaggio preferito di nuovo Ma che cazzo? Come faccio allora? Allora probabilmente Magnus Penso di sì perché a parte che l'attore che non mi ricordo mai il nome porca miseria vabbè Io lo adoro nel senso che lo seguo da quando faceva Glee e poi l'ho visto su Step Up e no è perfetto questo uomo io lo adoro poi mi sta simpaticissimo su questa serie quindi cioè non si può evitarlo Giorno 3 Personaggio preferito femminile probabilmente Izzy è fantastica a parte che è stupenda cioè vabbè mi piace un sacco ma poi è fortissima mi piace troppo è bellissima è bravissima è tutto Giorno 4 Personaggio maschile che ti piace di meno probabilmente Valentine cioè lo detesto mi sa qua l'odio Giorno 5 Personaggio femminile che ti piace di meno probabilmente la mamma di Izzy e Alec Madonna io la detesto cioè non lo so deve imporre le cose a tutti soprattutto a Izzy cioè la tratta malissimo nooo mi stai antipatica Giorno 6 citazione preferita amare significa distruggere e essere amati significa essere distrutti cioè ultima domanda OTP preferita A probabilmente Icleis mi piacciono tantissimo e anche Imalic bene le domande sono finite ringrazio ancora la Ele per avermi taggata ti ringrazio tantissimo per questo pensiero bellissimo se vi è piaciuto lasciate un bel like se volete dirvi qualcosa magari sull'OTP che avete voi o chi vi piace eccetera scrivetelo qui sotto noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao